Oggi sono due giochi, sono uno scivolo e due altalene in via Abba a Pantano, nel centro di Pesaro. Il progetto d'altro giro sta funzionando molto molto bene con l'amministrazione comunale di Pesaro, progetto che stanno guardando anche altre realtà d'Italia e in altre province. Il progetto è semplice, chiediamo ancora una volta a tutti i cittadini della città di Pesaro e i comuni di Mitofi di portare i loro abiti che non usano più alla Gulliver, via Rossi, piazza Redi o via Toscana 111. Noi questi abiti in parte li doniamo alle famiglie bisognose, siamo l'unico centro provinciale di donazione e di raccolta e in parte li vendiamo nelle nostre botteghe del riuso. Con il ricavato poi acquistiamo questi giochi o facciamo altri progetti con le scuole, con gli ospedali o con il comune. È importantissimo per tutte le persone di Pesaro e i comuni di Mitofi non buttare via gli abiti, non buttate nei cassonetti per strada, buttate lì quelle cose da buttare, le cose belle e ancora riutilizzabili, parlate della Gulliver perché grazie al vostro sforzo, alla vostra donazione possiamo fare tanto in città e nei comuni di Mitofi. Un grazie va grande, grandissimo alla Gulliver per questo dono che ci viene dato al quartiere Pantano. Rivalorizziamo uno dei parchi di Pantano dando nuovi giochi per i bimbi, tra l'altro questo è un parco molto frequentato, era stato un po' dimenticato e adesso finalmente riprende valore con i nuovi giochi, le panchine erano già state riverniciate quest'estate con un progetto finanziato dalla regione e poi andremo anche a risistemarlo con le altre panchine rimanenti. Benissimo così, andiamo avanti, ne faremo altre nel quartiere e quindi ci saranno altre novità nel quartiere per renderlo sempre più bello e questo parco naturalmente con i giochi per i bambini e con la verniciatura delle panchine e con tutto quanto sarà sicuramente ancora più frequentato.